Ecco, abbiamo organizzato tutte le manoviglie sul settembre, a quanto riguarda il problema? Allora, questo riguarda l'aspetto della storia economica, questo riguarda l'aspetto dei maniamento del piano che potrebbe importare, non essere corretto, però una domanda di informazione, perché questo è un problema di controllo, se c'è, se c'è, se c'è, se c'è, se c'è un problema di riscaldore, nel caso di 4 persone, ma il discorso fa, con il discorso di remoto, non diventa una stella, non è, però se c'è già detto, in buoni diritti, se c'è calda, ci vediamo male, ma se c'è calda, i cittadini non restano informati, cosa se lo fa? A tanto, il vostro cion piano, che abbiamo lo dato loro, finanziato anche la nostra storia, che poi, voi, le città della regione, altri gruppi, daremo bene, bravi e fatte a te, e vi ricordavo, però l'informazione, la sensibilizzazione, è importante, cioè, chi esce la casa dura, la casa dura, la fabbrica, più o meno, il testo è l'acqua, chi esce la casa, delle sottolinei che potete montare, per pensare che vi dà, o trovare un punto, o delle persone, un punto per il fuoco, e sono cartelle che noi in Italia non lavoriamo, se abbiamo, la qualità, la cittadina, la cittadina, la cittadina, sulle cittadini, sono cartelle che noi in Italia non li facciamo, e poi, poi, se non si utilizza solo, per pensare che i cittadini, per divulgare le più amme. Cioè, su questo e questo e questo? Esatto.